Ed è quello che tu devi fare adesso, metterti in testa che da imprenditore hai il dovere e la responsabilità di creare quel miracolo nei confronti dei tuoi dipendenti, dei tuoi clienti e dei tuoi fornitori. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della serie Imprenditori in Quarantena. In questa serie di video cercheremo di dare dei consigli di supportare alle persone che in questo momento sono a casa e si stanno facendo la domanda come posso fare per portare avanti la mia attività, come posso fare per portare avanti la mia azienda senza chiudere, senza trovarmi quando riapriranno le serrande con l'acqua alla gola. Allora dobbiamo subito fare però una precisazione, è un periodo duro per tutti quanti, siamo tutti quanti in difficoltà sia dal punto di vista mondiale perché l'economia si è inchiodata siamo in difficoltà anche perché abbiamo delle responsabilità in quanto imprenditori per doveri di cose da pagare, il mutuo, i dipendenti, il team eccetera. Abbiamo anche delle responsabilità nei confronti dei nostri clienti e potenziali clienti. Quindi la prima cosa che ti suggerisco di fare in questo periodo è focalizzati, ovvero non metterti a fare quello che pubblica sui social, lamentele per il governo, lamentele perché ci sono dei complotti oppure perché questo virus lo vuoi spiegare meglio dei giornalisti. Quindi ti prego da imprenditore a imprenditore il mio messaggio è questo, lascia perdere quel tipo di comunicazione, concentriamoci su quello che possiamo fare oggi. L'unica cosa che possiamo fare oggi, l'unica cosa su cui abbiamo controllo è la nostra comunicazione nei confronti dei nostri clienti e potenziali clienti. Mi sono arrivate molto spesso delle domande in questo periodo, Marco ma come posso fare per continuare a vendere? Marco ma come posso fare per non apparire come quello che vuole fare lo sciacaldo in questo periodo? Benissimo, ragioniamoci passo dopo passo. Io mi prendo comunque la responsabilità in questo periodo di supportare le persone che guardano i miei video dando dei consigli e se mi scrivi un messaggio qua sotto su un argomento che ti piacerebbe approfondire io mi prendo l'impegno in questo periodo di quarantena di registrarci un contenuto. Come fare per non passare da sciacallo? Allora, guarda i miei social. Io ho chiesto a un certo punto, ragazzi, ho dato la mia impressione su questo periodo economico, su cosa succederà dopo, ovvero che ci sarà una crisi economica, ci sarà però anche un mercato che deve ripartire. Quindi le persone che si sono preparate, che si sono fatte trovare pronte, che hanno migliorato i processi, perché ricordate non sarà più come prima, allora sì, potranno ripartire con tutta la difficoltà del mondo. Ragazzi, si sta parlando di fare fatica. Però saranno quelle persone che in questo periodo hanno lavorato per fare quello. Quindi ho chiesto, ragazzi, posso aiutarmi in qualche modo? Molte persone mi hanno scritto, il post è stato molto commentato, Marco per favore, facciamo qualcosa. Bene, sono qui per questo. La prima cosa da fare è mollare quella comunicazione di Lamentela. Toglietevi da quei gruppi dove si scrive siamo incazzati, le 600 euro, bla bla. Ragazzi, ok, fa parte di tutti noi, ce l'abbiamo come problema, è un problema mondiale, ma non è in questo modo che risolveremo le cose. Dobbiamo essere focalizzati, essere sul pezzo per quando l'economia sarà in rilancio oppure quando potremmo iniziare di nuovo a svolgere le nostre mansioni come prima. Però in questo momento ricordate che l'imprenditore non è fermo, l'imprenditore va avanti, va avanti mettendo a posto la comunicazione con i propri clienti, con i propri fornitori e soprattutto con il proprio team. Quindi l'imprenditore non si ferma mai, non fate quell'errore di stare sul divano a marcire deprimendovi oppure di andare su quei gruppi a lamentarvi del fatto che non mi hanno ancora dato le 600 euro. Ok, è vostro diritto avere quei soldi? Tutti i vostri diritti vanno benissimo. Abbiamo tutti delle responsabilità, c'è chi è messo anche peggio, che magari non hai soldi per pagare l'affitto. Ok, fai un grosso respiro, sei in salute? Va bene, devi tentare il tutto per tutto. Il tutto per tutto significa che ti metti lì e ti focalizzi su quello che puoi fare meglio. Comunica al tuo potenziale cliente, comunica ai tuoi clienti, stagli dietro, dagli assistenza. Facciamo in modo in questo periodo di creare qualcosa di migliore, di modo che quando riapriremo con tutto il sangue e la fatica che serviranno per andare avanti, lo faremo però con un altro passo. Ragazzi, come ho detto prima, non sarà più come prima. Scordatevi quello che è stato. Ok, sta cambiando tutto e quindi noi dobbiamo essere pronti. Il digital in questo momento sta diventando la parte fondamentale. Guardate questo periodo di quarantena. Io sono qua a registrare un video per delle persone che mi seguono e lo sto facendo direttamente dal mio studio a casa chiuso in quarantena. Ho uno smartphone, perché questo che vedete qui è un iPhone, una luce e un microfono. Tutto quello che ho sempre consigliato di avere per fare i video. Non ho la videocamera, tutta l'attrezzatura è lì per terra, non la sto utilizzando, è lì sotto nello zaino. Perché? Perché voglio dimostrarvi che in questo periodo se ci focalizziamo con quello che abbiamo e quello che possiamo fare possiamo ottenere lo stesso risultato. E Marco, ma devo vendere in questo periodo? In questo periodo devi concentrarti su il supporto, sulla comunicazione. Devi far capire al tuo cliente che ci sei, al tuo potenziale cliente che ci sei, ti stai preparando, sei sul pezzo e sei pronto per ricominciare a fare quello che facevi prima. Se hai la possibilità di supportarlo dandogli dei beni che possono essere utili, farlo assolutamente sì, non ti sto dicendo di non vendere. Io per esempio in questo momento ho ricevuto parecchie richieste di consulenze, parecchie richieste di iscrizione ai miei corsi, però in questo momento alt. Ok? In questo momento preferisco concentrarmi sul supporto. Adesso devo curare i miei clienti, curare i miei studenti e devo fare in modo che quando ricomincerà tutto saremo più forti di prima. Quando abbiamo chiuso, nella scuola in cui collaboro con Dario Silvestri, avevamo una situazione da gestire di studenti fisici che si sono ritrovati senza la struttura. E in cosa abbiamo fatto? Da un giorno all'altro abbiamo cercato di fare un lavoro professionale il più possibile per digitalizzare la didattica e creare un servizio ancora migliore. Ma secondo voi questa roba rimarrà o verrà buttata? Assolutamente rimarrà disponibile. Quindi il lavoro da fare è questo. Per la mia accademia di marketing, per tutto quello che riguarda le lezioni di marketing, ho cominciato a registrare delle nuove lezioni da mettere sui portali per poter supportare quelli che stanno studiando. Non bisogna mollare, bisogna dare delle indicazioni di essere sul pezzo a chi ci ascolta. Perché se hai intenzione di andare avanti, questo è il momento di essere più forti di prima. Devi farti vedere più forte. Perché se in questo momento non spingiamo verso l'alto, veniamo trascinati verso il basso. Non è possibile rimanere come prima. Come prima non esiste più, dobbiamo dimenticarcelo. E da adesso la parte digitale sarà predominante. Se prima un'azienda poteva permettersi di avere, ok, la mia azienda ha strutturata all'80% di cose fisiche da fare e l'online, così, una tantum, quando mi ricordo. Oggi invece la tua azienda deve diventare un'azienda digitale. Devi avere tutte le procedure registrate. Per dire un consiglio che ti posso dare è Hai delle procedure? Mettiti davanti all'iPhone, mettiti davanti al tuo smartphone. Registrale. Migliorale. Fai in modo che le persone che stanno lavorando per te, i tuoi fornitori, abbiano delle indicazioni. Ma soprattutto fatti vedere che sei lì. Sei sul pezzo. Sei gasato. Non vuoi mollare e sei più forte di prima. Perché questo ti aiuterà. I tuoi clienti se lo ricorderanno. Certo, tu potresti anche pompare le vendite. Ma questo sarebbe il momento tecnico sbagliato. Per dirti, io da marketer potrei droppare, che significa fare dei passaggi, di prodotti che in questo momento sono in trend di vendita. Cosa significa? Le persone hanno avuto un boom di desiderio di acquisto di amuchina, poi di mascherine, del lievito. Tutto è possibile, ok? Ma invece di andare a surfare quello che sono i desideri di acquisto sulle paure delle persone, puoi spiegare alle persone, come sto facendo io in questo momento, come funziona. E il fatto di non farlo, di non mettersi qua a sciacallare, a vendere corsi e dire ragazzi potrei giocare sulle vostre paure e dire ok rimarrete a piedi se non fate un mio corso. Non lo voglio fare. Voglio essere qua di supporto e fare un lavoro per cui nessuno un giorno mi potrà dire Marco, ma in quel periodo lì, quando tutti stavamo male e avevamo paura, tu sei stato quel bastardo che ha pompato le vendite. È sbagliato. È un tipo di comunicazione, magari non te lo dirà nessuno, ma la percezione sarà quella. Quindi non è, non voglio suggerirti che non devi vendere, ma voglio suggerirti che se vuoi andare avanti, la tua comunicazione in questo momento deve essere sul supporto alle persone. Per esempio parlavo con una persona che ha una cartelleria e mi ha detto come posso fare per andare avanti. Ci sono, le persone hanno bisogno della cancelleria perché i ragazzi stanno facendo webinar da casa e tutto. Crea un progettino per cui tu dici ti porto la cancelleria a casa, lo faccio in maniera gratuita. Ragazzi è normale, in questo periodo ci stiamo perdendo tutti, ma il fatto di essere lì, essere presente per i tuoi clienti, dagli un servizio, ti porto i giocattoli a casa, vuoi fare un regalo? Glielo vado a consegnare io, non ti muovere, siamo in quarantena, posso muovermi per lavorare, lo faccio io, lo faccio gratis. Ok? Tu avrai il tuo guadagno, ma intanto ti stai facendo vedere che in questo momento di difficoltà, in questo momento dove le persone non sanno dove sbattere la capa, tu sei dritto e fermo. Ed è questo che devi ricordarti di fare, ed è questo che devi essere, dritto e fermo. Perché dal momento in cui perdi le staffe e ti fai vedere che fai andare tutto a rotoli, perché hai dei problemi, stai andando a mettere in una condizione di irresponsabilità sulla responsabilità che ti sei preso dal momento in cui hai deciso di diventare un imprenditore. Quindi adesso è il momento di rimanere con le palle d'acciaio, la schiena dritta e di supporto alle persone che vuoi che siano i tuoi clienti. perché è adesso il momento che si vede chi le ha di acciaio e questo non vuol dire avere i soldi perché adesso non è un momento di pensare al denaro e sarà un casino, sarà un casino per tutti perché ci sono i dipendenti da pagare, le tasse, il mutuo, i macchinari, è un casino, ma questo tu non lo puoi controllare. Cosa puoi controllare? Puoi controllare quello che tu pensi e quello che tu dici e in questo momento è il momento giusto di pensare e dire le cose corrette, focalizzarsi sulla comunicazione di supporto al tuo cliente, ai tuoi fornitori, al tuo team perché anche il tuo team, le persone che lavorano con te devono vedere che tu sei lì, ci sei, non vuoi mollare e probabilmente è quello che pensi, ma come fai a farlo? Beh, mettiti lì e lavora, prendi il tuo telefono, registra sopra procedure, hai dei clienti a cui vuoi far vedere qualcosa, vuoi dire qualcosa, vuoi spiegare un tuo prodotto, vuoi spiegare una tua procedura, vuoi supportarlo in questo periodo che non ti puoi muovere, magari sei un parrucchiere piuttosto che sei una persona che vende degli oggetti, mettiti lì, parragli, spiega gli perché di una cosa, spiega gli di cosa sono fatti i tuoi prodotti, come li fai, come lavori e perché quando ripartirai sarai più forte, perché ti stai preparando e glielo devi dire, io da qui ragazzi uscirò più forte e questo cosa ti servirà? ti servirà a non indebolirti perché se ti indebolisci adesso è finita, appunto con questa serie di video cercherò di dare un supporto, una mano e ti sto dimostrando anche come sia possibile non passare da sciacallo perché in questo momento sciacallare, creare speculare, creare profitto sarebbe scorretto, magari tu dici io devo sopravvivere, sì, ma allora continua a vendere, cerca il modo di vendere, ma la tua comunicazione deve essere quella che ti sto suggerendo in questo momento perché se ti metti a fare l'arrogante ora non funzionerà, non è il momento di farlo, non è il momento di spingere sulla paura delle persone, per esempio ci sono aziende che si sono convertite e stanno facendo mascherine piuttosto che materiale di consumo per gli ospedali, tute eccetera, ma tanto di cappello, non è speculare quello, però guarda il messaggio qual è, è ovvio che l'azienda sta facendo tutto per tutto per andare avanti, non è che ti sto facendo le mascherine perché sono una persona, sono un filantropo che prima non faceva niente e oggi faccio le mascherine, benvenga se ci fosse, però un'azienda deve andare avanti e quell'imprenditore che ha deciso di fare questo passo, magari non guadagnandoci niente, ma facendo solo girare le cose, l'economia, mettendoci magari anche dei soldi propri, sta facendo un miracolo ed è quello che tu devi fare adesso, metterti in testa che da imprenditore hai il dovere e la responsabilità di creare quel miracolo nei confronti dei tuoi dipendenti, dei tuoi clienti e dei tuoi fornitori, mettiti lì, si può fare, tutto quello che puoi fare lo devi fare, ok? Magari hai bisogno di strumenti più tecnici, infatti questa serie di video è rivolta a dare un supporto, per dire, ti posso dire come sfruttare YouTube, come sfruttare Facebook, come fare l'advertising, come fare podcast, come registrare un video meglio, però la prima cosa che tu devi fare è fare una scelta, devi scegliere da che parte vuoi stare, se vuoi stare da quelli che si indeboliranno o se vuoi stare da quella parte di imprenditori che faranno tutto quello che è necessario per essere più forti di prima, per esserci, per non mollare mai, ok? Ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto metti un commento, fammi sapere magari qual è l'argomento che tu hai intenzione o avresti il piacere di approfondire, magari un tuo bisogno di adesso, cosa vuoi capire meglio della comunicazione e del marketing che sono le mie aree di expertise e per il resto continua a seguire questi video che probabilmente ti potranno dare un supporto. Ciao da Marco Doria.